Balda 77, è questo il nome del neo-fan club istituito a Montecosaro per celebrare e supportare il suo pupillo Lorenzo Baldassarri, classe 1996, che, dagli esordi del 2007, è balzato agli onori della cronaca per aver partecipato al campionato del mondo di Moto3, seguito dal team Gresini, lo stesso di Simoncelli. Anche se di recente fondazione, il fan club svolge greciamente il suo dovere di sostegno morale per il motociclista nostrano. L'orgoglio è tanto perché andando in giro per il mondo e portare in giro l'orgoglio di tutta la provincia e anche il fan club che da poco è nato, anche io quando sono in grida di partenza e chiudo la visiera, penso a tutti i fan, tutti coloro che mi sostengono e quindi mi danno una forza in più e una carica emotiva in più e questo è molto importante. Il fan club sarà presente sabato 25 a Montecosaro alle ore 17 come organizzatore della festa per Lorenzo, il quale coglie l'opportunità per poter dare dei consigli a tutti quelli che lo seguono e fanno il tifo per lui. Alla gente, non lo so, vorrei dire anche ai motociclisti che la strada non è tanto sicura come la pista, anche io compreso in strada sono un po' spericolato ma non tanto perché con lo scooter alla fine ho la possibilità di sfogarmi in pista e quindi se devo andare forte lo dico ma ci vado in pista e quindi strada sempre cerco di stare attento e prudente. Ne approfitta subito la provincia che sfrutta la presenza di Lorenzo come testimonial per una campagna di sicurezza stradale mirata soprattutto ai giovani delle scuole superiori, quindi coetanei del motociclista. E il presidente Bettinari sottolinea anche l'importanza dello sport per affrontare le difficoltà e le situazioni di disagio e come allenamento per affrontare con impegno e dedizione le opportunità della vita. Ragazzi, giocate soprattutto nello sport, crescete sani, crescete robusti, crescete soprattutto in amicizia ma attenti a quei valori veri che sono la famiglia, che sono la comunità ma che sono soprattutto ancora l'istruzione e lo sport. Fate sport e Lorenzo è l'emblema migliore.